Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Le origini della canzone napoletana sono così fortemente interconnesse con quelle della più ampia canzone italiana che entrambe si perdono nella notte dei tempi. Volendo identificare un periodo più vicino al nostro, che possa essere stato più largamente documentato, è nella prima metà dell'Ottocento che una schiera entusiasta di poeti, musicisti ed editori inizia a riscoprire questo importante passato, rielaborandolo per adattarlo al gusto dell'epoca e farne vanto di pubblicazione. Risvegliati da questo interesse, parallelamente gli stessi poeti, musicisti ed editori iniziano a lanciare nuove canzoni considerate oggi, a quasi 200 anni di distanza, non solo come la tradizione, ma anche e soprattutto come i pilastri di tutta la successiva produzione cantautoriale di una parte significativa del nostro bel paese. È grazie a questa riscoperta che ci vengono via via tramandati e consegnati per la continuità della futura memoria tanti piccoli capolavori, che esploreremo in una nuova playlist dedicata alla più ampia storia della canzone italiana, così come raccontata da un'opera essenziale, essa stessa rinnovata nel corso di più di un decennio, di cui sono venuto in possesso recentemente, grazie ad un acquisto a prezzo di lotto su subito.it. Mi riferisco all'enciclopedica opera La Canzone Italiana, pubblicata dal gruppo editoriale Fabri già nel 1970 e riveduta in una nuova edizione nel 1982. L'opera, in quattro corposi volumi, affiancava alla lettura l'ascolto dei brani citati nei testi, distribuiti in ben 80 dischi a 33 giri, ricavati dai master originali Phonite Cetra, Durium, Lord ed altri cataloghi di valenza storica. Un'occasione unica per approfondire e personalmente scoprire questo fondamentale patrimonio. All'esplorazione di quest'opera affiancherò, citandola direttamente, anche un'altra collana, che sto già pubblicando in video per scopi di preservazione e condivisione. Si tratta della raccolta di 10 VHS, edita dal Quotidiano Il Mattino, probabilmente nella seconda metà degli anni 90, in collaborazione con la RAI e l'Istituto Luce. In questo modo spero di condividere con tutti gli appassionati un quadro più completo possibile, almeno sulla canzone napoletana e almeno per quanto mi possa permettere. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.